Il 7 aprile 1944, la sera del 7 aprile iniziava la Pasqua di Peccia, tra l'altro mia nonna quando era ospite nella casa del portiere un giorno si sentì male e mio padre con un fratello la portò all'ospedale del Vittorio, si chiamava Luca, adesso si chiamava ospedale San Camillo, fu ricoverata, non fecero assolutamente nessuna eccezione, poi però purtroppo dopo i giorni è venuta a mancare e c'era anche la difficoltà di fare il trasporto a fumo e e fecero naturalmente la denuncia della morte e poi l'altra parte era all'ospedale stesso perché la morte era all'ospedale e doveva essere tumulata e pensarono subito che fare la tumulazione nel cimitere ebraico potrebbe essere rischiosa. Allora decisero i figli, mio padre aveva due fratelli, decisero i figli di tumularla nel cimitere ebraico, alla cerimonia della tumulazione sarebbero andati soltanto loro figli e nessun altro e naturalmente la cerimonia non poteva svolgersi secondo i canoni della tradizione ebraica, intanto perché mancava il numero delle persone e per cui la cerimonia diciamo rimane a tutti i grismi della regolarità. Il rabbino c'era? Il rabbino non c'era, non c'era il rabbino, c'erano soltanto loro tre figli e il carlofuna e mia nonna fu tumulata regolarmente senza però nessuna cerimonia religiosa. Si è verificato però un fatto strano che poi raccontano mio padre. Passarono due soldati tedeschi, erano due soldati da Wehrmacht dentro al cimitero, videro l'attimo proprio il momento della tumulazione, si fermarono, si tolsero il cappello e poi proseguirono. Sapevano che era un cimitero ebraico e chi lo sa? Probabilmente si, non erano SS, erano soldati. E così ritornarono poi a casa, facemmo poi la sera, anzi no, questa la sera prima, facevamo la veglia a casa, poi avvenne la tumulazione e così, ma questo era successo alla fine del mese di marzo. Il 7 aprile la sera cominciava la Pasqua ebraica. quando la mattina noi salimmo nell'appartamento dove erano i miei genitori e mia sorella, il mio nome era rimasto sempre nella casa del portiere e mio padre gli disse stasera è Pesac Pasqua, perché non facciamo il seder, la cena pasquale, perché non facciamo il seder? Adesso sono passati 7 mesi dalla preoccupazione, non è successo niente, io stasera stiamo tutti insieme tra l'altro, mio nonno era quello che dirigeva un po' il seder, quello che comandava il seder, l'avevamo sempre fatto. Addirittura preparammo in casa anche delle azime, preparammo del pane azico in casa. La sera mentre eravamo, fecevamo le preghiere, sentimo bussare la porta, capimmo subito che era qualche cosa. Quanti eravate intorno alla tavola? Intorno alla tavola l'avevamo in otto, in otto perché era mancata mia nonna, però c'era un fratello di mio padre che ci era venuto a trovare il pomeriggio per farci gli auguri, sapeva dove eravamo, lui stava in una chiesa all'Ostiense, la parrocchia credo che fosse San Benedetto, era nascosto lì in questa parrocchia. Era uscito, c'era nulla a trovare per farci gli auguri, per poi rientrare prima nel coprifuoco nel suo rifugio. Quando seppe che noi quella sera avremmo fatto il seder, allora disse invece ma rimango pure io questa sera, mi arrangio qui, poi domani mattina appena la fine, però il coprifuoco me ne vado. Bussarono la porta e andò ad aprire mia sorella, ritornò nella sala dove eravamo, era sconvolta. Dietro di lei c'erano due SS, cominciarono subito urlare in tedesco tra l'altro delle cose che nessuno capiva, poi invece c'era uno, un altro SS era rimasto sulla porta, c'era uno che parlava perfettamente l'italiano, quindi tutta quella scena di urlare in tedesco era proprio per intimorirci e ci dissero che avevamo 20 minuti di tempo di raccogliere le nostre cose, di portare qualche coperta, di portare gli indumenti, qualche indumento, di portare con noi i soldi e i gioielli perché dove saremmo andati avrebbero voluto servirci. Noi cercammo, mio padre soprattutto, i miei fratelli, cercavano di intavolare una trattativa, c'era mio nonno che aveva 84 anni, mio nonno era nato nel 1860. In Ghietta? In Ghietta, non era nato nel 1870, era nato in Ghietta, era vissuto nel Ghietto, aveva sposato una donna del Ghietto, ma d'altra parte gli ebrei erano tutti quanti là. Cercavo di intavolare una trattativa paura, dicendo per mio nonno, dicendo che cosa ve ne fate di nuovo gli 84 anni, è rimasto vedo da poco, abbia la pietà, non ve lo portare, tanto non potrà mai lavorare per la Germania, ma non ci fu niente da fare, ci fu soltanto una risposta rabbiosa, l'aus fuori. I miei fratelli presero mio nonno sotto le ascelle, eravamo all'ottavo piano, scendemmo, otto piani di scala a piedi, tra l'altro eravamo noi otto e tre militari grischi, quindi tutto il palazzo è inteso, tutto praticamente. Nessuno si è affacciato alla porta? Nessuno si è affacciato, nessuno, niente di niente, assolutamente niente di niente. Arriviamo al portone dove ci aspettavano una tua buonanza, c'era un altro SS, quindi erano in quattro, adesso non ricordo però se uno dei quattro faceva anche da autista o se era in più un autista, adesso questo sinceramente non me lo ricordo, e c'erano due italiani, due fascisti e mia sorella ne riconobbe uno. Quella mattina quando lei era uscita per fare gli acquisti di quello che serviva per la cena, era stata seguita da un giovane, si era affiancato, gli aveva fatto dei complimenti, mia sorella era molto bella, gli aveva fatto dei complimenti, gli aveva dato letto, gli aveva risposto come si risponde, una ragazza in genere risponde in casi di questo genere, girano a larga e guardano, non c'è niente da fare proprio, insomma, così. E poi aveva proseguito il suo giro per gli acquisti, poi naturalmente era entrato a casa. Questo giovane che aveva cercato di fargli la corte, aveva fatto questi complimenti, era un delatore, era la spia che l'aveva seguita quella mattina soltanto per sapere dove stava e per prendere poi il compenso di 5 mila lire che i tedeschi pagavano per un ebreo che veniva fatto arrestare. Quindi hanno consegnato 8 persone, 8 esseri umani per un compenso di 40 mila lire che per la verità però, certo non aveva una giustificazione, era una cifra enorme, era veramente una cifra enorme. Sarebbo su questa ambulanza, pochi minuti fino al carcere di Regina Celi, nel carcere di Regina Celi, intanto la sensazione, la sensazione terribile di entrare in un carcere, entrare in un carcere con la coscienza di non aver commesso nessun reato, è una sensazione terribile. Fummo messi faccia al muro davanti all'ufficio matricola, avevamo l'obbligo di di non dire una parola, di non parlare. Invece mio padre trasgredì quest'ordine in un momento in cui si era distratto il sorvegliante che era sempre un militare delle SS e si rivolse a noi figli, mi ricordo che ci chiese perdono e poi aggiunse che aveva avuto l'esatta percezione dell'abisso nel quale stavamo sprofondando e dei rischi maggiori ai quali stavamo andando incontro e disse ragazzi mi raccomando possono succedere le cose più terribili, mi raccomando conservate sempre la dignità di esseri umani. Poi fummo messi in una cella, io insieme a mio padre non mi abbandonavo un momento perché ero il più piccolo, pensavo che fossi quello che aveva più bisogno di protezione, io e mio padre fummo messi in una cella dove c'erano altri tre detenuti. Devo dire che questi tre uomiti, tre giovani, almeno due erano giovani, uno era un po' più anziano, non so per quale motivo stessero in carcere e poi hanno raccontato qualche cosa, ma furono meravigliosi. Appena entrati cercarono, era notte, ormai era notte, quando entrammo in cella, ci avevano buttato lì dei palliericci in terra, ma non c'entravano perché cinque persone in una cella non c'entra. E allora questi tre uomiti cercarono di stringersi, rifarsi da parte, di lasciare più spazio per noi, avevano capito che era una situazione assolutamente anormale. D'altra parte pure loro qualche cosa su quella che sarebbe stata la sorte degli ebrei in parte la conoscevano, la conoscevano perché? Perché pochi giorni anni prima del nostro arresto c'era stato l'ecidio delle forze avviatine. Anche fuori si sapeva che c'era stata la rappresaglia, tanto è vero che anche i giornali hanno pubblicato l'ordine a stare seguito, però non si sapeva né il numero delle persone, non si conosceva né i particolari, non si conosceva come, dove, eccetera. Ma a Regine Aceri invece si sapeva molto di più. Evidentemente qualche tedesco di ritorno dalle forze avviatine doveva aver parlato e la voce, non so per quale strano mistero nel carcere, si propaga con una velocità impressionante, qualsiasi cosa. E quindi nel carcere si sapeva, si sapeva che tutti quelli che erano usciti il 24 marzo dalle celle, sapevano perfettamente tutti e la fine che avevano fatto. Devo dire che questi tre uomini erano, sono stati meravigliosi. ricevevano dei pacchi da casa e quello che c'era era per tutti. Loro andavano per l'ora d'aria, ma per noi non c'era questo diritto. Neppure l'ora d'aria veniva concesso a noi. Dovevate rimanere sempre in cella? Dovevamo rimanere sempre in cella, soltanto aprivano per brevi momenti e guardati a vista, aprivano la cella e si voleva soltanto camminare per pochi minuti sul ballatoio. Questo era tutto quello che ci veniva concesso. So che poi i miei fratelli fecero la richiesta di fare un bagno e una doccia e gli fu concesso. So che loro fecero la doccia. Ma questo è tutto. Siete riusciti a vedere i fratelli e il nonno durante la permanenza Regina Celi? No, durante la permanenza Regina Celi no, ma la permanenza Regina Celi è stata brevissima, in pratica è stata soltanto di 4 giorni e quindi li ho rivisti nel momento in cui ci hanno chiamato per essere poi portati a Fossoli.